Chi è la? Sono io, mia cara, non abbiate timore. Come mai non dormite? State male, madre? Mi sono risvegliata di soprassalto pensando al dolore che avete sofferto. Vi ho vista nelle grinfie di quelle bestie. E allora non ho resistito al desiderio di sapere come stesse la mia piccola Susanna. È sciocco, ma il terrore è che vi accada qualcosa. Sto bene, ve lo garantisco. Che cosa? Voi state piangendo? Vi prego, abbiate pietà di me. Madre, che posso fare per voi? Sentite, sono... Io sono tutta gelata. Vi prego, tesoro, spostate la coperta, così che possa accostarmi a voi, riscaldarmi un po' e stare bene. Aspettate, adesso mi sposto così lo mettete nel lato caldo. No, ferma. Mi scaldo un istante a braccia da voi e dopo me ne vado. Abbracciatemi, per favore. Visto, sembro di ghiaccio. Voi siete così calda, dolce, profumata e bella. Lasciatevi guardare, Susanna. Lasciate che io vi guardi. Lasciate che vi guardi.